La politica in questo momento è ancora più assente di quanto non sia stata negli anni recenti, nei quali, peraltro, ripeto, nei confronti della giustizia ha sempre tenuto un atteggiamento estremamente ambiguo e riduttivo. È un giudizio severo sulla politica attuale, quello di Carlo Nordio, forse il magistrato più rappresentativo a nord-est, sulle inchieste che hanno segnato la storia recente del territorio dalla mala del Brenta al Mose. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia la sua fotografia è impietosa. Che le risorse siano necessarie per la giustizia è quasi banale dirlo, perché la giustizia è sempre stata la cenerentola nei nostri bilanci, ma immettere nuova benzina, come ha detto il ministro o l'ex ministro, nella macchina della giustizia è inutile se non riformi la macchina. Una riforma che deve coinvolgere in primis gli istituti di diritto processuale, con particolare attenzione al ramo civile. Quello che incide di più in questo momento di emergenza è la giustizia civile, che ci costa due punti di pila all'anno nel suo rallentamento, perché nessuno investe più in Italia perché non c'è la certezza del diritto. Quindi, paradossalmente, detto da un ex pubblico ministero che per 40 anni ha fatto il giudice penale, la riforma della giustizia civile oggi è più urgente. Altrettanto urgente la separazione delle carriere in magistratura e più in generale dei poteri dello Stato. Eliminare questa porta girevole di magistrati che vanno e vengono dalla politica alla magistratura e poi rientrano. Magistrato non dovrebbe fare politica né prima né durante né anche dopo essere andato in quiescenza per varie ragioni. Difficile però ristabilire gli equilibri in una fase così delicata, soprattutto guardando alle manovre romane. In questo momento si ha l'impressione che nessuno dei politici sappia dove andare, ma che ci vadano comunque convinti.